È stato un momento storico per Chiavari accogliere il Papa e questa statua che segna il passaggio proprio in questo luogo della presenza di Giovanni Paolo II è quello che è rimasto perché la memoria non si cancelli e ci sia la memoria di questo incontro di grazia che è stato breve nel tempo, 22 ore il Papa è rimasto sul territorio di Chiavari, ma profondissimo nella nostra storia e nel cuore di tante persone. Oggi riproponiamo quelle 22 ore di incontro con Giovanni Paolo II e ci auguriamo per chi le ha vissute di rinfrescare la bellezza, la gioia di quell'incontro, la grazia di quei momenti nei quali Chiavari sembrava trasformata e per chi non l'ha vissuto, era troppo piccolo come il nostro operatore che va solo 11 anni, l'opportunità di vedere un momento così bello e di riviverla attraverso le immagini televisive. La statua che è stata collocata qua sotto il prano della cattedrale porta un segno della rivoluzione dei Chiavaresi a Giovanni Paolo II e la si vede in questa porzione della mano del Papa che viene toccata ed è ormai consumata perché tanti si fermano e dicono una preghiera come sta facendo la signora che abbiamo qua davanti. Qualcuno aveva tolto i fiori ma sono stati rimessi e poi ormai si è lasciato e diventa un luogo di preghiera, un luogo di devozione per molti tutti i giorni. Grazie.